Il spazio della vita, alla fine, io provo sempre la stessa meravigliosa emozione. Esco fuori dal mondo, di meglio che i dolori, gli affanni, i problemi, e per poco più di un'ora sto bene. Lo so, non posso durare per sempre. Alla fine i dolori torneranno, gli affanni, i problemi, persino la sciatica e il mal di schiena. Ma intanto, in questa breve sospensione della vita, io li ho vinti. E quando questo momento sarà finito, forse avrò ancora più forza per affrontarli. Ecco, questo è quello che io ho provato in questi 50 anni che sono salito sul palcoscenico. E allora qual è la mia missione? La missione del comico. Far sì che tutti voi, ognuno di voi, uno per uno, possa provare quello che io ho provato, provo e proverò fino all'ultimo istante che il Padre Eterno mi concederà per farvi sorridere e divertire ancora.